Prima di essere presente, a me è Marco Merisio e sono appassionato di numismatica dell'Asia e questo è il connessionista delle monete e banconote, tra l'interesse di banconote asiatica che c'è per i stabiliti giapponesi in Cina e per i banconote dall'occupazione giapponesa in Asia. Ed anche va a parlare, questa volta, di una storia delle monete, gachi e pokemon. In Giappone c'è un proerbe che dice Neko Nikoban e questo proerbe è il di Daga Olkoban al Gat. Ma cos'è il proerbe che c'è Koban? E perchè il proerbe è il Daga Olkoban? E per parlare adesso di Koban e di altre monete dal periodo Edo. Il periodo Edo è il periodo giapponesico che va dal 1603 al 1668. In questo periodo esistia due tipi di monete che era la moneta di samurai e poi che era la moneta di mercanti. E per capire perchè era questo sistema di monete bisogna capire come era faccia una volta la società giapponesa. Il post per baste della società era quella che era formata dai mercanti e lui gli dovrà le monete e che servia poi le monete ai mercanti. Però ieri era mia consiglierei bene perchè ieri era mia e producì la mia ricchezza. Lui producì la mia ricchezza ma la india. Sui mercanti ieri erano ieri e ieri. Ieri specialmente ieri producì la ricchezza. E la ricchezza era misurata in un po' E ieri pagavano le tasse in un po' di daimio. E il po' di daimio era 150 kg di ris. Più o meno. E l'era un ris che si pensava che bastesse a una persona per campare un anno. Sura i contadini e gli artigiani. Ghera chi? Ghera i samurai che ghera i soldaci. E che i samurai venivano pagati in cocco di ris. Quindi i dovranno i samurai e la moneta. E ci ha la mia come stipendio e la moneta. Ma i ghera e il ris che servivano per mantenere. Sura o il samurai. Ghera i daimio e il shogun. Il shogun era un po' il generalissimo. E' una specie di dittatura del giappu. Che comandava i daimio. E che erano i daimio. E i daimio. E i daimio i comandavano solti. I samurai. Però i daimio. Però i ghera i daimio. Quando il shogun ti ha abbastanza terra. Daiga una rendita di desmila cocco. Cosa lo direi? Che i daimio. Quando ti ha più di e manteggi. Desmila soldaci. Perché in Gaddice. Che il cocco di ris. Basta far campare una persona per un anno. Per cui. E daimio. Poi di ammetti. Quando si ghera la guerra. Poi di apportare. Andare al shogun. Con desmila soldaci. E poi di mantenere. Per me. Sura o shogun. Ghera l'imperador. E l'imperador. Ghera adoma. Ghera mio potere. Politico. L'era che. Che conferma. O shogun. Fa di solito ai religiosi. L'era. Il fiole. Della. Dea materasu. E fa. Il solo lavoro. Ma che. Comandamia. E quindi. Che era appunto. Stai due tipi. De monede. E' una moneda. Che la servia. Paga. Che. L'era. La richiesta. Di mercanc. E' una moneda. Che l'era. La richiesta. Di. Di soldati. Della. Cosa. Che la contano. In giappu. Ghera separati. Che c'è. Un sistema. De monede. No. Ghera. Mi ha separati. Un po'. Il bronze. E' una moneda. Che era un po'. Questa equivalence. Il Rio. De ore. Ghera. Se des gramme. Mes de ore. E l'era. La moneda. Pese volta. Per l'or. 50 monne. 50 monne. L'era. La moneda. Pese volta. Per l'argent. E 50 monne. Ghera. Cento. Votantaseg gramme. E dopo. Ghera. L'equivalence. C'è. Quatermila moneda. De bronze. Con quatermila moneda. De bronze. E quando l'era. De ore. Equivalia. E quatermila moneda. De bronze. E quando l'era. Sta creato. Questo sistema. Che. O Rio. De ore. Equivalia. A. E. Cocu. De rice. Questa. Quella. E' una figura. Che fa capire. Un po'. Come. I. Funcionai. Equivalence. Quindi. Ghera. E una moneda. L'era. E mon. Un po'. I quatermila moneda. Che servia. Per fare. La moneta. De ore. Più. E. E. Si. In. Da. De quatermila. In quater. Almeno. All'inizio. In da. De quatermila. In quatermila. De quatermila. De quatermila. O. Dei. Dei. Cinquanta. Momne der. Zend. E. Dopo. Ghera. il sistema che l'era fatto per loro, per l'argento, che era un po' il sistema dei frasiù o il Coban, che l'era particolare questo sistema dei frasiù, perchè o il Coban e i 50-60 momni dell'argento che appena dì che l'era fatto a pizze queste lingue, che l'era di vi dici in frasiù del quater, che era la par quella del quater di Coban e dell'unità dell'argento, che l'era o il bu, e dopo che era la par quella di sedes, che l'era o il su del Coban e l'era o il su della par dell'argento e quindi per fare il Coban ti avrei quattro bu di or, oppure ti avrei quattro bu di argento e ci avrei fatto dopo che avrei sedes su di argento, o di or, per fare sempre il Coban quella che l'era l'unità standard di argento perchè però l'argento per esempio ha l'unità che la pizzevolta che l'è è un'unità che l'è teorica quasi teorica, diciamo perchè l'angia puggera è come se intuolte l'estremo oriente anche era più se or che er siente e quindi l'era per fare se per esempio i gai ma il Coban che è 50 momni dell'argento come gli era facci i Coban, i Cobans gli era facci se il Coban contenia il Rio d'Eur però col TEP la percentuale è un po' diminuita e quindi gli contenia più il Rio d'Eur questa moneta che è D'Eur è la parte che è l'adequata del Coban questa che è una moneta di argento che è un po' particolare perchè è un po' fuori da quel sistema che ha detto dei quattro partiti e dei sedi partiti che ha detto prima questa che è una moneta che ha scritto ora che ha scritto l'argento e può dire che è cambiata per il Coban e che è quella che ha scritto ora e infatti questa che è stata la moneta che è stata più usata per l'argento dopo che era appunto Imon che è la sua moneta di Imon e che la sotto era una moneta di Saint Mon un po' per capi di immaginabile andando in giro con quattro mela monede che fa e Cobano o comunque di oltre unità di misure che non è ori che gli ha faccio un po' di Saint Mon e la particolarità è che queste monete dato che i monetti hanno avuto quattro mela e dovranno di stringhe i mercanti andando in giro con le stringhe di chi monede che è sia che nella stringhe che era detto e la quantità dei monetti che avranno tutti i Coban o piuttosto che tutti i centri e lei dovrà essere ma se io mi raccomando ho il Cobano il Gato perché è anche il proverbio alla fine ho detto un po' che è il proverbio che non raccomando le perle al porsello perché quando ho un'altra storia in giapponese o ho un'altra storia che ci sono orientate è anche questo che non ha il Cobano e mi ha detto che porta la fortuna perché come non fa spiega appunto che ha il Cobano questo Gato che è questo Gato che è il Manekinico che è il di che è il Gato 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 che è una statuetta che la mette insieme un po' di storiella giapponesi che è detta in questa statua è il Gato del Tempio se dice che è nato che non ci sono che non ci sono che non ci sono il tempio di Gotokuji Aido quando al cominciare per riparare l'acqua questo daino che si rifugia sotto una pianta e quando dopo un po' che l'era l'essuta sarà da un po' in giro che si chiede il gatto che fa a sei con la ma con la zampa e il daino che si fa a chiedere il gatto per un invito andare dove era il gatto che l'era sotto la porta del tempio fa inviterà il gatto inviterà andare da lui a pregare un po' sotto il tempio e si è sposta da questa pianta che quando dopo un po' che l'essuta è sposta ha una bella fulman sulla pianta che la sastrina e appunto questo daino alza salvezza dal fulman e se l'essuta andrà a Tokyo che l'edolo l'essuta chiamata Tokyo troviamo questo tempio ed è questo tempio che è posto anche lì dedicato a questo gatto che fa poi una bella festa con questo gatto e dire che belle statuine del di questo gatto che è il post che si dice che è il scd che è la roba che è questo gatto è poi un amuleto che che compra questo tempio però domande mia cosa è la scrisura e porta per cos'è e dopo che ha un'altra storia che è la storia del gatto della geisha si dice che la geisha che era il gatto il dè o il gatto comincia a tirare il kimono della sua padrona e per quanto il venne si avvia continua sempre ad andare a far andare alla sua padrona e mentre l'era l'ansieme al suo cliente questo cliente pensa che questo gatto che era il gatto del strano che magari l'era deve diventare il baccheneco che l'era è spiricatrice e il vefo di gatti che è un po' pericoloso e perché la maniera che la testa del gatto con la sua spada però sta testa del gatto ha il guland dell'area e la testa del serpente del gatto e anche al punto che tu ci capis che questo gatto cosa che era posto gatto l'era deve difendere la sua padrona se pesta la testa del serpente che era delle nus però insomma la gattina è un po' triste da quella roba che un cliente è un po' dispiagito di fare questo che insomma il gatto era un po' sorriso e ora fa un bel gattino del peluche o una statua di questo gatto e regala la gheja per ricordare che il suo gatto fa la mia e se la gheja è un po' meno triste si dice che è un po' meno triste e non fa un po' di questa storia dopo un capo la storia del gad del pescador si dice che era il pescador che quando tornava di suo battito di pesca ha regalato sempre il pes a garrandaggio che sta esi a casa su e però la barca del pescador l'è naufragata e il pescador l'è cadita in miseria quando la miseria l'era più brutta l'era arrivata la sua ura penigra il gad che si mi ha dimenticato di lui e detto qualche dei pescador che era da mangiare l'ha aspettato davanti a casa so e portato in bocca e coba per riconoscenza detto che prima il pescador era facile per lui e se non tornare a un po' vecchio questa statua e pensare che la zampa che la gassura le mie sgraffino su ma le le ciamà come il ciamà il gatto del tempio e questo senso assomma un po' il gesto che fa il gatto quando al saneta e in japon credo che quando il gatto sarà a il mus ho dì che presto arriverà un ospite e quindi bisogna prepararla qua questa credenza l'ha al po' per i negozi e per i negozi spettami agli ospite la zampa a trovare spettami clienti e quindi in giappu che era po' l'usanza dei tans in attività e gatti almeno quando sarà c'è mai che c'è mai clienti e poi tenia un po' denun tra gracia una volta e quindi non trovano tante volte questa statuetta che è di negozi perché adesso ho magari nel ristorante e dopo ho il coven che era portato al pescaduro e poi il coven comunque è il simbolo della fortuna quindi questa statuetta che mette un po' insieme tutte queste storie ed infatti non la trova spesso come portafortuna in giro specialmente magari nel ristorante cinese che usano sake o in giustura in giappone o comunque che la porta come souvenir quando va a post in giappone e adesso non c'è un centro posto gat o il manekineko al dedenco e con i pokemon che grande è il titolo se non pensa a cosa è diventato il manekineko al dedenco perché l'è diventato l'ha popolare col passato appunto questo manekineko l'è famosa in giappon e è poi nella cultura dei nostri e è il pokemon che ha proprietato manekineko che è il manekineko e il pokemon si si ama mi off al su me ha il gato al gato il corban sulla fronte il mi è attirato da tutta la roba rotonda che la sberlecia e va in giro per strada a roba tutte queste robe che e quando questo pokemon che ha combattuto gli otter pokemon ha poi un attacco che il sachama deve paga e è questo attacco che mi lancia monede contro gli otter pokemon e quindi lei un manekineko l'è passata da esso è una statuina cerimoniale un souvenir per i turisti che vengono in giappone qualcosa di l'è passata ad essa mo if nella cultura del cd di giappu anse notare magari non sia prima più questo pokemon che questa storiella del ghat di ghat e il proerbe che dice le mise quindi ricordi che le daga mia o coba nel ghat che tanto le mia bu da presa che che ghat di se proprio si resta i brai con lui ricordi che vada a lui e bel kovan come ricompensa grazie a te ci a Grazie a tutti.